Grazie a tutti. Forza Crotone, tu magica crotone, tu squadra di passione, per sempre vincerai. Forza Crotone, tu magica crotone, tu squadra dentro il cuore di tutta la città. Forza Crotone, tu squadra di passione, per sempre vincerai. Forza Crotone, tu squadra di passione, per sempre finali Palermo-Crotone. La partita finisce 1-0 a favore del Palermo. Un Palermo che non riesce ad approfittare della superiorità numerica per l'ingenuità dell'espulsione a carico del Crotone. Nonostante una fase un po' in bilico e quasi rinunciataria per alcuni momenti da parte del Crotone, che si risveglia solo a tratti, ma con questa poca cattiveria non riesce a racimolare nemmeno un punto che si risveglia solo a Barbera, dove praticamente il Palermo la vince e quindi fa sua la partita con il risultato finale dell'1-0. Fasi salienti della partita, cosa dire? Il Crotone viene fuori da una vittoria contro l'Empoli per quattro reti ad uno, esulta per un Falcinelli vittorioso per ben tre delle quattro reti rimediate a Lezio Scira contro i Toscani, diretti concorrenti nella lotta per la salvezza. Non riesce però ad avere la meglio di un Palermo, nonostante la partenza non sia stata del tutto sfavorevole alla Crotone, ma basta quell'attimo di ingenuità, incassa la rete un Nestorowski che sicuramente riesce a sorprendere in poche occasioni, non sono state tantissime le occasioni, un Palermo che vive ancora di questa crisi e non riesce a pensare che la salvezza sicuramente in questo momento è un po' in bilico per entrambe le squadre, e l'Empoli che racimola un punto contro il Torino al 47esimo riesce a sorprendere e certamente ad allontanarsi anche se di solo un punto dal Palermo, probabilmente sono due i punti che condannano un po' il Crotone rispetto alla quart'ultima della classifica. Ancora la matematica non dà il suo reddetto finale, ma il Pescara e il Palermo sono le due vincenti di questa rocambolesca coda della classifica, una pescara certamente perdente, l'Empoli che rimedia un punto e vale quasi come una vittoria, per cui certamente questo non permette al Crotone di racimolare i punti e di ritrovarsi di nuovo a qualche lunghezza dalla salvezza, anche se l'Empoli non riesce ad approfittare di una rocambolesca sconfitta del Pescara, di cui chiedo scusa se prima ho detto un'inesattezza, il Pescara perde 6-2 nel turno casalingo contro la Lazio, è protagonista un grande parolo che incassa certamente la bravura su ben quattro reti e quindi rimedia un poker non molto facile. Ci pensano poi Keita e Immobile a domare lo stadio adriatico della Pescara e ad avere la meglio anche sulla serenità delle altre partite che si sono disputate questo pomeriggio, il primo anticipo dei turni serali di questa 23esima giornata di Serie A finisce per 1-0 a favore del Palermo, di conseguenza si allontana un po' quello che era il sogno della salvezza anche se matematicamente il crudone rimane ancora in corsa. Fasi salienti nella partita Azione avvolgente del Palermo Al quinto minuto di gioco Si gioca nello spazio e nessuna delle due squadre vuole concedere qualcosa oppure scoprirsi L'azione avvolgente del Palermo con il primo cross di Pezzella viene riviato di testa da Ferrari al settimo minuto E di certo il crudone guadagna qualche metro verso il Palermo ma lo fa a tratti per cui il Palermo fa meglio Meglio organizzato il Palermo si permette di avere una combinazione con Kochev lanciato da Traikovski di Tacco che però rimedia l'intervento di Ceccherini a beneficio dei propri compagni di gioco Il primo giallo del Palermo arriva al nono minuto con l'ammunizione per Cione che per un brutto fallo Una punizione dal limite dell'aria di rigore per il crudone Barberis non batte benissimo, colpisce la barriera Sul successivo suggerimento Falcinelli era in fuorigioco Poi arrivano alcune occasioni per il Palermo con Rispoli dalla corsia esterna e tira un cross a palla che termina di poco sulla rete esterna con Kordaz in apprensione Una buona giocata difensiva di Traikovski Arriva al primo quarto d'ora di gioco Un siparietto tra Rossi e direttore di gara che indutava di prendere il gioco Il terzino sottolinea come il pallone fosse svolto e bisogna sostituirlo Ecco così che entra un nuovo pallone in campo e anche questo condiziona un po' le azioni del gioco Il cross di Martella intercettato da Rispoli al sedicesimo Accenno timido di protesta per la richiesta di un rigore da parte del terzino del rosso-blu Il prova la giocata Bruno Enrique per il Palermo Finisce a trascinarsi la palla fuori dal campo, rimessa a laterale per il crudone Al diciottesimo un tiro cross di Rispoli diretta verso Nestorowski La palla viene tra le braccia di Kordaz che blocca la sfera Al ventesimo un cross di Martella prova all'imbucata anche se completamente sbilanciato E la sfera termina sul fondo Ci pensa al ventiduesimo con dei ritmi di gara molto blandi E' più la paura di perdere che la gara che la voglia di volerla vincere Al ventitresimo prova a mettere una palla tesa in mezzo all'aria Nalini che direziona completamente sbagliato la palla e quindi la sfera termina sul fondo L'avvicendamento al ventiquattresimo uno spunto di Traikowski Prova l'accelerazione, Nalini in copertura la mette in angolo Bocca da fuori aria di rigore di Nestorowski al ventiseiesimo Embalo, un'azione personale, riceve proteste dei padroni di casa che volevano un tocco di mani Il ventisettesimo il Palermo è in vantaggio La rete di Nestorowski che approfitta di un'ingenuità della difesa E' imprendibile la palla per Kordaz che rinuncia all'intervento Giocata meravigliosa al ventisettesimo di Embalo Che entra in aria di rigore, scarta due giocatori con due finte Serve la corrente attaccante Macedone che quindi determina il vantaggio del Palermo Al trentesimo ancora Palermo pericoloso con Kocev avanza sulla tre quarti Scaglia un sinistro, Kordaz deve deviare con i pugni Cambio di gioco del Palermo Pezzella in ritardo, non aggancia ma viene spronato Incitato positivamente dal proprio allenatore Diego Lopez Trentaduesimo ancora un rischio per il Crotone Con Anjarkovic che colpisce di testa e Kordaz si salva con i piedi Trentacinquesimo Palermo molto più pericoloso Ma finora il Crotone dà l'idea di poter diventare pericoloso da un momento all'altro Crotone pericoloso al trentaseiesimo Stojan cambia fascia Prova il cross dalla destra Falcinelli e Trotta si scambiano di posizione Il secondo prova di intervenire sulla sfera da due passi rispetto alla linea di porta Il Crotone ha guadagnato fiducia e Metri resta stabilmente nella tre quarti avversaria Siamo al quarantesimo, il Palermo prova a reagire con Pezzella Nalini lo chiude e il terzino di Lopez lo ferma trattenendolo Cronometro scorre velocemente verso la fine del primo tempo L'inerzia della gara al momento sembra incontrovertibile Palla di Iaialo per Nestorowski al quarantaquattresimo Che poi effettua una verticalizzazione sul portiere Kordaz Al quarantacinquesimo termina il tempo regolamentare Un minuto di recupero Il solito Nestorowski al quarantaseiesimo viene imbeccato eccellemente Ma da Embalo a decidere finora questa sfida salvezza E il tiro termina fuori La posta in palio è talmente alta che non c'è molto spazio per il bel gioco Anche se il Palermo è indubbiamente la squadra che ha giocato meglio Meritando il vantaggio Si riparte al quarantasettesimo Il Crotone parte subito forte con Un calcio d'angolo guadagnato sugli sviluppi Ma nulla di fatto L'azione è indice di un possibile cambio di rotta rispetto al primo tempo Al quarantottesimo Grande azione personale di Nadini Che ingaggia un duello contro due avversari Che di esperienza lo sbilanciano neutralizzandolo Al quarantanovesimo Ancora una bella giocata di Nestorowski Che guadagna l'ennesimo fallo in attacco Poi Stojan si libera In buca per trotta al cinquantesimo L'attaccante di Nicola Tenta un controllo che lo consegna agli avversari Facendo sfumare l'azione Ancora una giocata di Nestorowski al cinquantaduesimo Si fa beffa di due avversari Cede palla a Bruno Enrique Che ottiene anche gli applausi dagli spalti Ma nulla di fatto Cinquantatresimo Martella si lamenta con l'arbitro Che non si trovano più palloni Quando la sfera finisce in fallo laterale I racattapalle ci mettono troppo tempo A rimettere la palla in gioco E quindi si perde del tempo utile Cinquantacinquesimo Palla sul fondo La cui uscita protetta da Rosi Si riparte dal rilancio di Kordaz Per il Crotone Cinquantaseiesimo Una giocata di Embalo Oggi davvero ispirato Fa un cross rasoterra Che viene intercettato e rinviato Dalla difesa ospite Un cartellino giallo per il Palermo Al cinquantasettesimo Stojan salta rispoli Che lo atterra E guadagna una punizione Da posizione interessante Al sessantesimo Palla del Crotone Che diventa più pericoloso Al sessantesimo Palla in mezzo di Falcinelli Arriva Trotta Che non c'entra la porta Scaraventando fuori Dallo specchio Dalla porta difesa Da Posavec Primo cambio Da Trotone Esce Trotta Debuta Kocknick Il neoacquisto Il sessantaduesimo Giallo Cartellino giallo Rimediato da Chris Etic Per aver commesso fallo Su Nestorowski Azione pericolosa del Palermo Al sessantaseiesimo Embalo entra in area di rigore Semina il panico Martella raddoppia su di lui Mette in angolo Al sessantasettesimo Ceccherini prova un Rabona Che gli consente di guadagnare Un calcio piazzato Battuta malissimo La punizione da parte di Rosi Nulla di fatto Sessantanovesimo Doppio giallo Per Chris Etic E quindi Lui colpisce malamente Kochev E viene espulso Dal direttore di gara Al settantunesimo Secondo cambio del crotone Entra Capezzi Esce Nalini Al settantunesimo Ancora un altro Cartellino giallo Viene ammonito Barberis Sono saltati i nervi Ai giocatori ospiti Si rende protagonista Negativo anche Stojan Al settantaduesimo Traikovsky Mette giù palla Prova a servire Nestorovsky Ma prima di tutto Ci arriva Ceccherini Che libera l'aria Al settantaquattresimo Embalo rimane a terra Dopo un contatto con Stojan Che lo ha sgambettato Palla lontana Il direttore di gara Non ha visto nulla Da rivedere Quindi il fallo Attraverso la Moviola Al settantaseiesimo Dopo il cambio Di Traikovsky Per Silva Per il Palermo Ancora un cartellino giallo Per il Crotone Stojan Abbatte Embalo La partita Si fa sempre più cattiva Siamo all'ottantesimo Gara Che non sembra essere Invertita Nella sua inerzia Dato che il Crotone È corto di idee Offensive All'ottantatresimo Palermo Vicino al raddoppio Kochev riceve palla Dopo un contropiede Scaglia un sinistro Sul quale Kordaz Compie un vero e proprio miracolo Arriviamo all'ottantottesimo Con un cambio del Palermo Esce Angerkovic Ed entra Sunic Ultimo giro d'orologio All'ottantanovesimo Poi ci sarà il recupero A separare il Palermo Da questa vittoria E il novantesimo Saranno ben cinque minuti Di recupero Terzo cambio del Palermo Esce Nestoroschi Ed entra Balogal Siamo al novantaduesimo Al novantatresimo Crotone pericoloso Martella sugli sviluppi Di un calcio d'angolo Trova la botta Da fuori Palla che termina alta Sopra la traversa Entra nel frattempo All'ottantasettesimo Simi Che sostituisce Stoian Troppo nervoso Al novantaseiesimo Al novantaseiesimo Fischio finale Palermo Crotone Termina Uno a zero Siciliani Credono ancora Alla salvezza Avendo battuto Una diretta concorrente Decisivo Come sempre In questa stagione Nestoroschi E perciò La salvezza È più vicina Per il Palermo Si diventa Più difficile L'incrocio Anche per il Crotone Verso la salvezza Che deve Affrontare poi Tra l'altro Già mercoledì Otto Il recupero Contro la Juventus Nel turno Casalingo Recupero Del diciassettesimo Turno E poi Successivamente La Roma Domenica 12 febbraio Alle ore 12.30 Sempre allo stadio Comunale Ezio Scida Quindi Cammino Sempre più Inasprito Ma dobbiamo Sempre aspettare Come minimo Marzo Per poter capire Quali saranno I risultati Finali Ancora Non è Pronta Un'idea Di gioco Schematico E anche Per quanto Concerne Alcuni anticipi Sulle formazioni È troppo presto A dirlo Visto Anche Quello che è successo Durante il corso Della partita Con uno Stoian Che ha rimediato Un doppio cartellino Giallo L'espulsione Di Lorenzo Crisetic Tra gli uomini Di Davide Nicola Logicamente Tutto Questo Deve far riflettere Un po' La direzione Tecnica Del Corotone Il tecnico Rosso-blu Davide Nicola E anche Studiare A tavolino Sarà molto Difficile La strategia Contro La Juventus Ma Il cammino Sarà sicuramente Un cammino Troppo Troppo Acceso Visto E' considerato Che ci si Rientra Per quanto Concerne Il Palermo Con questo E' tutto M91 Speciale Palermo Crotone 1-0 Ci risentiamo Per gli ante Della partita Crotone Juventus In programma Allo stadio comunale Si uscita Giorno 8 Mercoledì Febbraio 2017 Alle ore 18 E Successivamente Anche per i commenti Finali Un ringraziamento Alla redazione sportiva Di Stapparadio.it Spreaker.com E A tutti i canali Direttamente collegati Un saluto Particolare Anche A Roberto De Angelis A Stefano Timi Grazie per L'ascolto Da Antonio Milano E A risentirci Alla prossima Alla prossima Alla prossima I La classe Alla prossima Alla prossima Grazie a tutti.